In questo video ti spiegheremo come installare il tuo rilevatore di monossido di carbonio intelligente. Puoi installarlo in totale autonomia, non sono richieste conoscenze tecniche. La confezione contiene tutti i componenti del dispositivo necessari all'installazione. Il rilevatore di monossido di carbonio intelligente, il supporto a parete, due viti e i due tasselli, il manuale di istruzioni. Ti serviranno anche i seguenti attrezzi, una matita, un trapano con una punta da 5 mm, un cacciavite a croce. Per l'installazione sono necessari uno smartphone o tablet, una rete Wi-Fi privata con internet ad alta velocità. Ricorda che il rilevatore di monossido di carbonio intelligente rileverà il monossido di carbonio e attiverà l'allarme anche se il Wi-Fi non è configurato. Tuttavia, il Wi-Fi è indispensabile per ricevere le notifiche sullo smartphone quando si è fuori casa. Prima di installare il rilevatore intelligente di monossido di carbonio, leggi le informazioni di sicurezza riportate nel manuale d'uso che troverai all'interno della confezione. Ti consigliamo di installare un rilevatore di monossido di carbonio intelligente su ogni piano della casa, nelle stanze in cui si trovano apparecchi a combustione, come caldaia, camino, stufa a legna o fornelli a gas. Dovresti installare un rilevatore di monossido di carbonio intelligente anche nel garage e nelle stanze dotate di canna fumaria per il riscaldamento. Per una protezione ottimale, installa un rilevatore di monossido di carbonio intelligente aggiuntivo nelle stanze della casa in cui trascorri più tempo e in ogni camera da letto. Scegli dove installare il rilevatore di monossido di carbonio intelligente. Nell'ideale, installalo a più di due metri di distanza e a non oltre quattro metri dagli apparecchi a combustione. Installalo a un'altezza massima di 1,5 metri dal pavimento. Verifica da smartphone che nel punto di installazione la ricezione del segnale Wi-Fi sia buona. In caso contrario, prova ad avvicinare il router Wi-Fi. Seguendo le raccomandazioni di posizionamento, posiziona il supporto a parete nella posizione corretta e segna i due fori di fissaggio con una matita. Effettua i due fori. Inserisci un tassello in ciascuno dei fori. Installa il supporto a parete nella posizione corretta, inserendo le due viti in dotazione per fissarlo al muro. Stringi le viti per fissare il supporto a parete al muro. Installa il rilevatore di monossido di carbonio intelligente sul supporto a parete, allineando i fori presenti sul supporto con quelli del rilevatore. Ruota il rilevatore in senso orario per fissarlo sul supporto a parete. Una volta installato sul supporto a muro, il rilevatore di monossido di carbonio intelligente emetterà un forte segnale acustico e tutti i LED si accenderanno. Successivamente a ciò, il LED verde lampeggerà una volta al minuto per indicare che il dispositivo sta funzionando correttamente. Scarica l'app Home Plus Security, disponibile gratuitamente su App Store e Google Play Store. Crea un account o accedi a uno esistente. Segui le istruzioni che vedrai apparire sullo schermo per associare lo smartphone al rilevatore di monossido di carbonio intelligente. Goditi una casa più sicura. Step 1. Logo di installazione. Come istra 2. Regresso passwordo a Linux getting paid per Yam Kirby einen orts usurban al Hilfe e, heading 3, installazione del supporti morandource. Step 3. Installazione del detries crystalline di carbonio intelligente. Skuro supporto all MED. Step 3. Téléchargeuman del flore dionen rime la foto Charlieδώ. Grazie a tutti.